Le forze dell'ordine stanno mettendo in guardia i reatini, specialmente gli anziani, riguardo a una serie di truffe in atto a Rieti nei suoi quartieri. Negli ultimi giorni e nelle ultime ore sono stati segnalati episodi sospetti nei quali malintenzionati, fingendosi operatori di enti locali o tecnici di aziende di servizi, cercano di raggirare persone vulnerabili per sottrarre denaro o beni di valore. Le modalità utilizzate dai truffatori sono varie e subdole. Si presentano alla porta con pretesti come la verifica di contatori, il controllo di presunte fughe di gas o come finti agenti di polizia che avvisano di furti imminenti. In alcuni casi contattano le vittime al telefono, informandole di incidenti che avrebbero coinvolto familiari, chiedendo somme di denaro per risolvere la questione. Le forze dell'ordine di Rieti chiedono alla cittadinanza di rimanere vigile e di non fidarsi di sconosciuti che si presentano senza preavviso. In caso di dubbi, invitano a non aprire la porta e a contattare direttamente i numeri di emergenza per segnalare il sospetto. Le famiglie sono invitate a parlare con i propri cari anziani per informarli di questa modalità di truffa e a consigliare loro di non fornire informazioni personali o dettagli bancari a nessuno. Questa ondata di truffe richiede un impegno comunitario. Vicini, parenti e conoscenti sono incoraggiati a fare attenzione e a segnalare situazioni sospette. Solo con l'aiuto di tutti si potrà affermare chi approfitta della buona fede degli anziani. La sicurezza di tutti e specialmente delle persone più vulnerabili è una priorità per la città di Rieti e per le forze dell'ordine locali pronte a intervenire per proteggere i cittadini.